Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il nuovo prefetto Fabrizio Stelo arriva in città e inizia il suo lavoro. Nato a Roma, ma ha abitato a Siena per diversi anni e ha il suo secondo incarico da prefetto. Prima di Teramo è stato a Oristano, dove ha svolto il suo incarico dal 2021. Anzitutto conoscerlo e ovviamente apprezzarlo, perché stiamo parlando di una provincia, di una terra bellissima. Quindi conoscere i problemi, il che vuol dire cominciare a non solo leggere e studiare, ma vuol dire anche conoscere le persone, le istituzioni. Ovviamente comincerò nei prossimi giorni, già da oggi, il giro. Sindaci, Presidente della provincia, le forze dell'ordine. Girerò molto questa provincia, sia perché è bellissima, sia perché il contatto diretto con le persone, con le autorità, con le istituzioni consente in maniera insostituibile la conoscenza dei problemi e poi vedere come poterli risolverli in tutto e in parte. E' pronto a conoscere al meglio la provincia di Teramo, girandola in ogni angolo. Arrivo stamattina, quindi sono fresco, entusiasta, con le maniche, ora fisicamente no, ma mi rimbocco le maniche. Cominciare a lavorare nel mio piccolo, grande contributo che potrò dare a questa provincia, che ripeto, bellissima. Oggi ha incontrato i dipendenti della prefettura per augurarli il buon lavoro e per presentarsi, ma nei prossimi giorni girerà anche le piazze, come lui stesso afferma, per parlare con i cittadini. Quindi ora comincerò, ho già incontrato i miei principali collaboratori, cioè i dirigenti della prefettura, e ora comincio tutto il giro e comincerò in bestia ufficiale, ma anche in incognito, in borghese, vorrei andare in giro per la città, per la provincia e fermarmi, parlare in un bar, in un'edicola, per vedere quali possono essere vicino alla gente. Può essere uno slogan, parole, proverò a passare anche ai fatti, di parlare con le persone per vedere come posso dare una mano a questa terra. Laureato in scienze politiche, giornalista dal 1993, tra i suoi obiettivi c'è quello di comunicare al meglio con i cittadini per poter raccontare ciò che la prefettura sta facendo sul territorio. Ma credo moltissimo nella massima comunicazione, nel massimo dialogo con voi, con tutti gli operatori della comunicazione stampata, blog, televisioni, radio, no no, su questo avete la mia parola. Non mi piace la parola no comment o non rilasciare un'intervista, qualche volta succederà, ovviamente consentitemelo, però spero di non doverlo fare mai, ci proveriamo, lavoriamo insieme.